la rossanese batte la nuova rogliano e sale momentaneamente al comando le otto reti messe a segno testimoniano una superiorità schiacciante dei bizantini sulla squadra rossonera ospiti con solo quattro uomini in panchina e senza la guida tecnica di mister aceto il trainer infatti nei giorni scorsi ha subito una grave perdita familiare anche la brigata bizantina ha voluto stringersi all'allenatore omaggiandolo con uno striscione in memoria del figlio scomparso ritornando al calcio giocato padrone di casa orfani dell'infortunato catalano e con granata e buongiorno acciaccati e fuori dai titolari piccolo problema al ginocchio per il difensore febbre per il puntero rosso blu avanti dopo soli nove minuti lancio dalla difesa e sifonetti che batte in lob de marco gli ospiti non riescono a produrre gioco mentre la rossanese controlla grazie ad una fitta rete di precisi passaggi al ventesimo arriva il raddoppio con carrozza su piazzato diaco porta a quattro le marcature tra il ventitreesimo ed il ventottesimo prima del riposo scalise e zangaro su penalty fissano sul 6 a 0 il risultato della prima frazione di gioco nella ripresa aloisi fa rifiatare chi ha giocato di più gli ospiti con cardamone ci provano ma a segnare sono ancora i rosso blu con morfo gioia doppia per l'attaccante in quanto il gol è arrivato proprio nel giorno del suo compleanno esordio stagionale con la squadra del presidente abruzzese per francesco levoci l'attaccante di ritorno dopo la parentesi al san giacomo d'acri ci prova più volte ma a chiudere il match e zangaro con un siruro da fuori aria